Con questo tutorial vedremo come inserire una transizione al nostro video. Innanzitutto devo spiegare che la transizione va collocata fra due video, quindi se ne abbiamo due mettiamo il cursore in mezzo ai due video e inseriamo la transizione. Se abbiamo un solo video dobbiamo noi fare la divisione e la transizione l'andremo ugualmente a collocare. Ma ti faccio l'esempio. Questo è un video a caso che ho messo perché a me serve solo per dimostrare come si inserisce la transizione. A questo punto cosa si fa? Si trascina il video nella timeline. Adesso è pronto per essere editato. Ti dicevo che al momento ne ho uno solo. Se ne avessi avuto un altro l'avrei trascinato di fianco e avrei posizionato il cursore al centro. Avendone uno solo mi tocca a questo punto decidere dove inserire la transizione. Siccome un esempio o un punto vale l'altro, ho posizionato qui il cursore. Diciamo che a questo punto voglio dividere il mio video. Cosa faccio? Mi rego su questa icona azzurra, split. Ci clicco. A questo punto ho creato due monconi. Uno e due. In questa posizione adesso posso inserire la transizione. Clicco su transizione e nella clip bin c'è il menu di scelta con tutto il ventaglio delle transizioni possibili. Scelgo quello che mi piace e la vado a collocare nella prima finestra appunto tra i due monconi perché ipoteticamente potremmo avere altri monconi e inserire altre transizioni. Io di solito scelgo questo flip. È una transizione che gira tutta la vetrina. È molto carina. La trascino nello spazio predisposto e a video nell'anteprima possiamo già vedere l'effetto. Vediamo? Abbiamo controllato. Sotto c'era la voce del video ma a me non interessa quindi avrei fatto un lavoro enorme fare una cosa nuova invece ho creato ho trascinato una cosa che in pratica già avevo. È chiaro come si fa ammesso che qui ci fosse stato un altro moncone io avrei potuto all'infinito mettere tante transizioni. Ok? Ritorniamo nella posizione iniziale del clip bin. La nostra transizione è posizionata qui. Vogliamo adesso anche mettere una cosa carina all'apice del nostro cursore quindi clicchiamo su More Cursore Effet è già nella prima linea adesso è 9 quindi non c'è niente invece già la prima posizione è quella che è un'animazione molto simpatica che scelgo spesso e quindi lasciamo questo Cosa significa ciò? Significa che il nostro cursore ha inglobato questa animazione ed ogni volta che viene a posizionarsi a posizionarsi all'apice dimostrerà sempre questa lorne giallo a questo punto possiamo anche salutarci perché l'effetto che volevo farti vedere è questo grazie per l'attenzione e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti